Era il 24 giugno del 1910 quando nacque l'anonima lombarda fabbrica automobili Alfa che poi nel 1915 confluì nel gruppo che faceva capo all'ingegner Nicola Romeo. Per celebrare i 100 anni di storia dell'Alfa Romeo che ricorrono oggi Antenna Sud propone Alfa Romeo cuore italiano passione pugliese, uno speciale curato da Antonio Stornaiolo e Donato Barile e realizzato da Michele Creta, una produzione presentata da millennia nuova concessionaria Alfa Lobeo a Bari, gruppo Malverizzi. Appuntamento alle 14.30 subito dopo questo TG e alle 23.30 per rivivere la storia del mitico marchio in Puglia. Per gli appassionati del genere, oltre alle prove su strada dei nuovi modelli Mito e Giulietta, anche un tuffo nel passato con il contributo degli amici alfisti di Puglia e le loro auto d'epoca. 24 minuti per celebrare la storia di una casa automobilistica che è sinonimo d'Italia e di emozione, che è nata dall'intuizione geniale di un ingegnere napoletano, che è stata il simbolo del boom industriale e continua anche oggi a portare lo stile e il design italiano in tutto il mondo.